Allora, buongiorno a tutti. La notizia è quella di ieri, ci ho fatto anche una storia su Instagram. Il CEO di Twitter, Jack Dorsey, ha lasciato la sua carica, è già subentrato un'altra, insomma, una roba del genere. Che cos'è Twitter e chi è Jack Dorsey, per chi non lo conosce? Beh, è un personaggio particolare, se non ricordo, presente anche in The Social Dilemma, se non mi ricordo male. Comunque, è un tipo, adesso leggo sui quotidiani online, è un tipo molto particolare, che crede molto nei suoi principi e che ha cercato di traghettare Twitter da quello che era all'inizio, che era veramente una bomba, perché in 140 caratteri era il socio con cui comunicavi più frequentemente, più di Facebook, a un certo punto. E' famosa anche una cena tra Zuckerberg e Dorsey, che Dorsey dice, ma chi è questo? Cioè, Dorsey è di uno spessore assoluto. A un certo punto, però, Twitter si è inceppato, si è avuto dei problemi. Viene tuttora utilizzato, ma come sappiamo, come ho detto anche nella storia di ieri, viene utilizzato per fare dichiarazioni. Ma cosa intendo per fare dichiarazioni? Intendo che viene usato per esternare una cosa, no? Dirlo un po' come comunicati stampa, no? Brevi. Prima era 140 caratteri, poi è diventato 5 anni fa 280. Non mi scorderò mai che proprio quella mattina in cui è cambiato, e per questo bisogna informarsi sempre e comunque, quella mattina in cui io ho parlato dei 140 caratteri di Twitter durante una lezione in aula e sono passati a 280, facendomi fare la figura del praco Taro. Era una cosa sorpresa, certo non lo potevo sapere, ma grazie Dorsey perché mi ha fatto fare veramente una bella figura. In realtà non era questa grande cosa perché fino a un minuto prima ero nel giusto. e poi è stato cambiato. E Twitter in questi anni è cambiato molto. Cerca di stare al passo con i tempi, ha creato le sue storie, i suoi spazi audio, i plays. Però ad occhio de pancia, diciamo così, mi sembra che la gente continui a usarlo per quello che è, cioè nel senso mandare spam più che altro, oppure messaggi così nel lettere qualcuno risponde. O spesso e volentieri è anche uno sfogatoio. Vedremo se cambierà qualcosa. Adesso il nuovo SEO si chiama, vediamo se lo trovo. Parag Agrual è il nuovo SEO. Ci sono alcuni giornali che titolano Dorsey sceglie l'ascetismo e molla Twitter, che risale. Tra l'altro io ho avuto un botto in borsa incredibile. Andatevi a cercare qualche foto di Dorsey, è un tipo sicuramente particolare. Vedremo, a me piace molto Twitter, innanzitutto è il social più veloce. Poi posso scrivere, posso mandare audio, posso fare un po' quello che faccio da tutte le altre parti. Però è proprio il mondo sociale che lo compone un pochino. Quanti di quelli che mi seguono hanno un account attivo su Twitter? Non faccio niente. Su Twitter. Io ce l'ho. E non è l'account primario, devo dire la verità. Anche perché... Poi è difficile sponsorizzare per arrivare a un target. Cioè posso farlo molto facilmente su Facebook e Instagram. Anche su LinkedIn, anche se costa caro al limite. Ma su Twitter... Che, secondo me, è quello che è la tecnologia migliore, fino adesso, mal sfruttata ancora. Potrebbe essere lì, lì, con Telegram. Adesso vedremo cosa diventa Telegram. Vediamo cosa tira fuori Pavel Duro, perché a breve ci sono i messaggi sponsorizzabili lì sopra. Quindi ci sarà un account premium, un account normale, forse, ci dicono. È un po' che ce lo dicono. Vediamo se sarà così. Io vi auguro una buona giornata. Questo era proprio un flash per spiegare la storia di ieri. Ciao a tutti da Fabio. Ciao, ciao.